Potete festeggiare ora tifosi rossoneri. Cadrete all'indietro per quello che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per ricevere tutte le ultime notizie sul Milan. Sembra che gli ultimi tentativi del Milan di dirottare l'affare di Radu Dragusin non andranno a buon fine. Secondo quanto riportato, il difensore è vicino al trasferimento agli Spurs. Secondo quanto riportato ieri mattina dalla Repubblica, il Milan sarebbe in pole position per l'ingaggio di Dragusin dal Genoa, con Lorenzo Colombo potenziale chiave di volta per sbloccare la situazione. Se non l'hai ancora fatto, lascia subito il tuo like per continuare a ricevere le notizie sul Milan in prima persona. In seguito, Gianluca Di Marzio ha confermato che i rossoneri ci stanno provando e che un'offerta di Colombo più 20 milioni di euro potrebbe essere sufficiente ad accontentare il Genoa, in seguito a contatti con l'entourage del giocatore. Secondo le ultime informazioni di Di Marzio e di altre fonti, Dragusin è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Tottenham, dopo i continui contatti tra i due club degli ultimi giorni. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per raggiungere un accordo completo. Il Genoa ha atteso il possibile arrivo di un'offerta ufficiale da parte del Bayern Monaco, che lunedì 8 gennaio si è inserito nella corsa a Dragusin senza contatti diretti. Invece, ha parlato con gli agenti del centravanti rumeno, promettendo un'offerta considerevole da parte del club tedesco. L'offerta non è arrivata e il Genoa ha chiuso l'affare con il Tottenham. Ora siamo ai dettagli finali, con il club londinese che ha raggiunto i 24 milioni di euro più 6 di bonus con la sua offerta, mentre il centrocampista di Ed Spence andrà nella direzione opposta in prestito. Ora tocca a voi, vorreste vedere Dragusin giocare nel Milan? Ditemelo nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti sul Milan.